buongiorno sono giorgio consulente renault di gruppo carmeli oggi ti presento renault clio hybrid itek 140 cavalli una delle nuove proposte del gruppo renault full hybrid che non va a risignare le linee tanto che all'esterno clio ibrida itek si distingue solo per dettagli quasi invisibili come la forma più volgente dello scudo paraurti posteriore o i loghi itek sul montante centrale e sulla porta del bagagliaio le dimensioni rimangono identiche con 4.05 cm di lunghezza per un metro e 79 di larghezza e con ben un metro e 44 di altezza renault clio i-tech si avvale di un motore a benzina 4 cilindri aspirato da 1.6 litri capaci di erogare 91 cavalli e con ben due motori elettrici la vettura in oggetto presenta circa in lega 17 climatizzatore automatico fari anteriori e posteriori c-shape a led sensori di parcheggio anteriori posteriori e retrocamera specchietti retrovisori esterni richiudibili elettricamente luci automatiche interno in tessuto misto pelle una vettura con tutto quello di cui abbiamo bisogno se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011 i nostri consulenti saranno a tua disposizione